La previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Amore e armonia obiettivo del momento. Gli ex compagni di classe, i colleghi, i componenti della vostra squadra. Potreste uscire con loro stasera, sempre che la vostra dolce metà non abbia altri progetti, facendo un pieno se non la accontentate. Pensieri e desideri che devono restare segreti, così come silenzio stampa riguardo i vostri conti bancari, non perché celino lo schemanovre o evasioni, ma se lui o lei sapesse quando avete speso ultimamente in capricci, chiederebbe subito il divorzio. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, i vi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere e la società in cui viviamo. Rinviate acquisti e spese non necessari, un po' di sana economia farà bene, soprattutto alle vostre finanze. Oggi buone opportunità in amore per i single, speciale mnete per i nati di lunedì dalle 9 alla 15. Ci potrebbe essere un regalo che vi aspetta e che potrebbe farvi felici. Se state pensando a una vacanza cercate di progettarla con il dovuto anticipo. Imparerete presto a gestire una situazione che all'inizio vi sembrava insormontabile. Ce la farete. Siate indulgenti con il vostro partner, può capitare a tutti di commettere qualche errore. Tuttavia siate anche generosi con lui, in fondo divide con voi quasi tutto. Emozioni comprese. Un affare non potrebbe portare i frutti sperati. Cerca di portare pazienza. Se coltivate un hobby oggi è il giorno adatto a dedicargli il tempo giusto. Staccate un po' dai social e dalla vita virtuale. Provate a vivere più intensamente la vita reale. Non fate caso ad un collega o a un amico che è particolarmente noioso, piuttosto concentratevi, e bene, sulle cose da fare e, soprattutto, portatele a termine. Bene le richieste di prestiti e mutui, possibilità di estendere quelli esistenti. Urano favorisce i contatti con banche, finanziari e investitori. Approfittate della compagnia di un'amica disponibile per distrarvi un po'. Non è il momento di stressarsi. Il vostro fascino andrà aumentando giorno per giorno. Dovete essere sinceri con la persona che conta su di voi e sui vostri sentimenti, anche se questo vorrebbe dire fare del male. Cercate di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Più chiederete informazioni dettagliate e particolareggiate più aumenterete la stima verso di voi. La vostra popolarità nel lavoro oppure nella vostra vita sociale sta crescendo a vista d'occhio insieme all'energia positiva che emanate intorno a voi. Cielo astrale splendido per voi quest'oggi. Potreste infatti sentire la stimolazione dell'aspetto benefico della luna nel fedele segno dell'ariete a euforizzarvi, specie se appartenete alla gemellina terza di cade. Se tuttavia vi dedicate allo sport fate una particolare attenzione a non strapazzarvi troppo e a non scoprirvi, soprattutto. Contemporaneamente l'altro transito di Nettuno Pesci, sempre dissonante, potrebbe portarvi qualche sorpresa nel settore della salute, come raffreddori e influenze. Il tutto se festeggiate in particolar modo il vostro compleanno dal giorno 8 al 15 del mese di giugno. La luna frizzante inariete promette bene, ma purtroppo c'è qualcuno che disattende le vostre rose e speranze per la serata. Sì, proprio la bella Venere, che di colpo fugge via dall'acquario abitato dal Sole e da Saturno per passare in pesci, segno allo Zenit e inquadratura rispetto al vostro. Ripiegato su se stesso Mercurio nella casa numero 8, la più misteriosa e segreta, ma anche la più silenziosa. Naturale è il giorno della memoria e certe cicatrici non si cancellano facilmente dalla storia dell'umanità, o almeno non si dovrebbe. Amore ed Eros L'amore vi picchia in testa, più come un sogno, una fantasia, o una speranza andata in fumo che come una realtà presente e felice. Per stare sul concreto oggi ci sarebbe da preferire l'amicizia, calda, appassionata, sorretta da esperienze ed ideali comuni. Alle storie di cuore solo qualche allusione, ironia sottile, ma come dice il proverbio, a buon intenditore poche parole. Bello puntare in alto, innegabile indizio di autostima, ma purché si tratti della persona giusta, la spocchiosa o lo snob di turno non fanno per voi. Siate soddisfatti di voi stessi. Avete superato brillantemente l'ultimo periodo poco conciliante. Ora la vostra positività ed il vostro ottimismo verranno finalmente ripagati. Saturno in angolo super favorevole dal segno dell'acquario vi rende appassionati e vitali con la vostra dolce metà, specie se siete della terza decade. Riuscite a trovare un punto di incontro in merito a una questione importante che vi aveva toccato nei giorni scorsi e vi aveva un po' lasciato con opinioni diverse. Chi di voi è single fa un incontro del tutto inaspettato nell'ambito della cerchia delle amicizie più strette. Lavoro e denaro. Buona giornata per gli artisti che oggi ricevono nuove ispirazioni captandole dagli archivi cosmici dove tutto è contenuto. Relativamente tranquille anche le finanze, tuttavia converrà a volare basso, le speculazioni azzardate nonostante il vostro coraggio oggi non fanno per voi. E' un po' di giorni che vi sentite smaniosi di condividere le vostre idee con i colleghi o collaboratori e cercherete di coinvolgerli con entusiasmo in nuove opportunità professionali. Ci sono cambiamenti positivi nell'attività professionale e ve lo annuncia la luna che transita in angolo positivo dal segno esplosivo della riete. In modo specifico se siete nati dal giorno 21 al 29 del mese di maggio. Benessere. Serata elegante sabato sera, ma allo specchio non siete mai soddisfatti. C'è sempre il dettaglio che non vi va a genio e vi fa sentire brutti anatroccoli anche se siete splendidi cigni. Ricordate comunque che l'immagine non è tutto, ci sono anche la simpatia, la comunicativa, l'intelligenza, le doti intellettuali e spirituali valgono quanto quelle fisiche, anzi per chi non è superficiale anche molto di più. Relax e distrazioni. Ascoltate i segnali che vi manda il vostro corpo, potresti aver bisogno di rallentare il ritmo. Tisane e passeggiate all'aria aperta saranno un toccasana per il vostro animo. Per lei, fissate con la ricerca del compagno, l'amore a 360 grado, la cerimonia nuiziale. E con questi argomenti non fate che stordire anche gli amici. Scendete dal pero, l'unione non è solo festa o apparenza, ma l'impegno reciproco che spesso e volentieri, finiti i festeggiamenti, cade subito in prescrizione. Per lui, amicizia ruvida e sincera, cresciuti insieme vi dite tutto, anche le cose più spiacevoli, facendovi l'analisi logica e psicologica di ogni scelta e di ogni errore. Bravi, è così che ci si aiuta davvero. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.